E' morta all'età di 54 anni la dirigente scolastica dell'Istituto Falcone Borsellino di Favara Antonietta Monreale. Le condizioni di salute della preside in questo ultimo periodo sono andate peggiorando. Una notizia, quella del decesso, inaspettata e più, e che ha lasciato nel lutto pure il mondo della scuola. Antonietta Monreale, laureata in Scienze Politiche, ha diretto l'Istituto di Via Olanda dal 2015. Proprio qualche settimana fa, nel mese di dicembre scorso, aveva ricevuto le chiavi della nuova grande palestra esterna che avrebbe dovuto inaugurare in questi giorni. Sconforto e cordoglio arrivano dai docenti, dai collaboratori, dagli operatori della scuola e da quanti le sono stati sempre vicini. Al loro sentimento si associa quello dell'editore e di tutto lo staff di Sicilia TV. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 15.30 nella chiesa San Gregorio di Via Cavaleri Magazzeni ed Aggregento.